In questo video ti mostreremo come programmare un controllo di sicurezza con il tuo telefono Pixel. Se ti trovi in una situazione incerta in cui hai paura per la tua incolumità, ad esempio se stai facendo una passeggiata in una zona che non hai mai frequentato, o stai andando a una festa dove non conosci nessuno, puoi impostare un controllo di sicurezza. Quando programmi un controllo di sicurezza, il tuo telefono effettua una verifica all'orario impostato e se non riceve risposta, avvisa i tuoi contatti di emergenza che qualcosa non va. Prima di utilizzare questa funzionalità, devi consentire a Google Maps e all'app Emergenze personali di conoscere la tua posizione. Per cambiare le autorizzazioni per la posizione, apri l'app Impostazioni e tocca Geolocalizzazione e poi Usa posizione. Per attivare il controllo di sicurezza, nella schermata Home, scorri verso l'alto per visualizzare tutte le tue app e tocca Emergenze. Poi, tocca Controllo di sicurezza. Seleziona il motivo e la durata. Puoi scegliere da 15 minuti fino a 8 ore. Poi, tocca Avanti. Seleziona i contatti che vuoi avvisare in caso di mancata risposta al controllo di sicurezza. Poi, tocca Attiva. Ora sai come programmare un controllo di sicurezza con il tuo telefono Pixel. Per ulteriori informazioni su Pixel, guarda gli altri video oppure visita il centro assistenza.